come on come on to the pinnipon world come on come on oggi nel mondo pinnipon si celebra una festa di travestimenti mmmm travestimenti pazzi vuoi vedere le combinazioni più strane? vediamo ciao amici che fate qui? come mai non siete travestiti? è che non sappiamo come travestirci e la festa inizia tra un'ora beh credo che siete arrivate nel posto giusto in Mixi's Max è impossibile non trovare il travestimento più speciale e originale siiii siamo venuti a chiederti un aiuto tutti voi? siete tantissimi e solo abbiamo un'ora forza mettiamoci all'opera beh iniziamo da te cappuccetto rosso guarda cappuccetto ho scelto tutti questi accessori e complementi per te come queste alette rosa oh che bello voglio mettermi le ali però mi piacciono di più le azzurre beh qui ci sono le azzurre andiamo a provarle come ti stanno bene credo che sei perfetta come fata queste ali saranno perfette unite a questa coda di sirena uuuuh sei bellissima voglio essere la prossima allora dimmi che vuoi tra tutto questo io vorrei essere scienziata però mi piacciono tanto anche le principesse beh con Mixi's Max puoi mischiare tutto ciò che vuoi qui abbiamo la scienziata e abbiamo tutti questi abiti di principessa mi piace il viola wow il travestimento da principessa scienziata è fantastico sei già pronta per la festa che divertente io voglio essere qualcuno assolutamente diverso pompiere no 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 pirata lo so già pompiere e pirata quindi vuoi qualche cosa necessario per un pirata una benda come questa sì mi piace ah marinaio e lo combineremo con questo pantalone da pompiere ah e non dimentichiamoci di una bacchetta perché non si perda la magia che te ne pare Rapunzel non sembri tu sei proprio un pompiere pirata per te ho selezionato tutti questi accessori wow che figata stai benissimo con questi capelli sei mostruoso e inoltre ti mettiamo un mantello per diventare un super zombie e abbiamo già quattro travestimenti che forti un pompiere pirata una principessa scienziata la fata sirena e il super zombie la cosa comincia a essere difficile da chi vi travestirete voi tre? vediamo se potete indovinarlo abbiamo un cappellino una maschera una testina di vampira delle ali azzurre capelli biondi e una racchetta la verità è che non saprei cosa potrebbe essere e voi? wow non avevo mai visto dei travestimenti come questi la streghetta ladra una principessa tennista e super fata vi piacciono i vostri travestimenti? ho selezionato gli abbinamenti più belli si sono fantastici beh ragazzi siete già pronti divertitevi tanto durante la vostra festa grazie il mio è il migliore no è il mio il mio il mio oh oh sembra che il premio al miglior travestimento della festa vedrà molta competizione e voi? quale votereste? e con tante possibilità che travestimenti avreste creato? scrivetelo nei commenti e ricordate date mi piace al video e iscrivetevi al canale dei pinipon per non perdervi nessun Mixis Max dove scoprire più combinazioni uniche per la vostra festa e iscrivetevi al canale